Invece adesso abbiamo un collegamento già pronto con Sua Eccellenza Monsignor Paldalzarre Reina, vicegerente della Diocesi di Roma, che ci parlerà della processione di domani del Corpus Domini che torna a San Giovanni Laterano dopo qualche anno di stop. Buongiorno Sua Eccellenza, ben trovato! Buongiorno a voi, non so se mi sentite. Forte e chiaro, la sentiamo bene, in studio con me c'è anche la collega Maria Pia Picciafuoco con la quale commenteremo questa notizia che ci fa tutti molto felici relativa, come accennavo, al ritorno della celebrazione del Santo Padre di domani al Laterano per il Corpus Domini con la relativa processione. Sì, come dicevate, dopo alcuni anni si riprende questa bella tradizione interrotta un po' per il Covid, un po' per altre ragioni e davvero siamo tutti, tutta la Diocesi, tutta la città è molto contenta di questa ripresa. Il Santo Padre celebrerà l'Eucarestia a San Giovanni Laterano alle 17, seguirà un breve momento di adorazione e poi si snoderà la processione attraverso Via Merulana, la animeremo i Vescovi Ausiliari della Diocesi di Roma e il tutto si concluderà a Santa Maria Maggiore, sul Sagrato di Santa Maria Maggiore con la benedizione solenne impartita dal Santo Padre. Ecco, eccellenza, mi inserisco, intanto la saluto. Ho visto che il suo motto è La carità è paziente. Come e perché ha scelto questo? Ho insegnato diversi anni le lettere di San Paolo presso il seminario di Agrigento, quindi sono molto legato a San Paolo come figura e ai suoi scritti. E l'inno alla carità ha sempre costituito un mio punto di riferimento. Un po' mi sono rispecchiato, penso di essere paziente di carattere, ed essendo stato accanto ad alcuni Vescovi ho capito che una delle virtù più urgenti per un Vescovo è la virtù della pazienza. Lo sto sperimentando, ne serve tantissima di pazienza, quindi in quel momento di entusiasmo in preparazione all'ordinazione episcopale ho avuto questa idea, mi sono confrontato con il Padre spirituale, la confermo, la confermo tutta, anche se devo dire molto faticosa. Lei sicuramente immagina che i nostri telespettatori, anche perché il mese di maggio si è chiuso appena ieri, sono molto affezionati alla Madonna, anche perché noi siamo nati proprio come emittente in riferimento a una frase di Padre Pio sulla voce che lui voleva avere sempre più grande per far amare a tutti la Madonna. Ora voi state per vivere a Roma, un momento che è bellissimo, sarà che noi qua siamo anche appassionati di storia, e quindi quel 4 giugno 1944, 80 anni dopo, diventa un riferimento alla Madonna Salus Populi Romani. La racconti lei la storia, che lo farà sicuramente meglio di me? No, no, vabbè, la storia non so se l'avete già raccontata, però abbiamo voluto riprendere questa, diciamo, questa grande devozione del popolo romano alla Vergine, alla Salus Populi Romani, che ha avuto diverse declinazioni. Infatti durante il mese di giugno vivremo il 4 nella chiesa di Sant'Ignazio, da dove tutto parte, quindi il popolo romano si affida alla Vergine Santissima. Ci sarà una celebrazione a Montemario, nella chiesa degli Oronini, dove anche lì è stata posta una imponente immagine della Madonna. Saremo al Divino Amore, dove poi tutti sappiamo c'è questo santuario che è meta di continui prelegrinaggi da parte di tanti romani e non solo. E il tutto si concluderà a Santa Maria Maggiore, dove è deposto il quadro, l'immagine della Salus Populi Romani. Quindi abbiamo ricostruito questo quadrilatero che ha reso molto forte, sempre più forte all'interno del popolo romano, l'amore e la devozione alla Vergine Santissima. Il voto, lo dico appunto ai telespettatori, perché ne avremmo parlato sicuramente il 4 giugno, era perché Roma venisse risparmiata e infatti il giorno dopo sono entrate le truppe americane e i tedeschi se ne sono andati senza distruggere, senza... Certo, l'anno precedente c'era stato il tragico bombardamento di San Lorenzo, è indimenticabile, però in quel caso questo voto, che era nato appunto da un sacerdote orionino, una proposta, ha fatto il suo effetto. E poi ci sono tante altre bellissime cose da raccontare. Io però vorrei, magari ci aiuterà lei, scoprire il generale Clark, poi, se ha saputo di questo, se era anche lui devoto della Madonna, chissà. O che è Serling, l'altro lato. Non lo so, mi piace pensare di sì, mi piace pensare che era rimasto in lui un amore nascosto alla Vergine Santissima che poi ha trovato spazio, o meglio, si è fatto spazio attraverso il voto, perché la preghiera alla Vergine, come sappiamo, è potentissima. Di fatto, lui è stato uno dei pochi che, nonostante fosse processato a Norimberga per i crimini, ovviamente, di guerra, poi, invece, ha avuto salva la vita, quindi non è stato impiccato subito, come è capitato a tanti anni. È stato giustizio. Ma, Tony, ti ho tolto un po' troppo la parola, perdonami. Eh no, eccellenza, è che Maria Pia è super appassionata di storia, quindi, quando poi parte, non si ferma più. Io ritorno, prima di salutarla, alla notizia principale, il motivo principale per cui ci siamo collegati con lei, la ringraziamo per la disponibilità. Ricordavamo, appunto, la celebrazione delle 17 di domani con il Santo Padre in San Giovanni in Laterano per celebrare il Corpus Domini con la relativa, susseguente, processione che poi arriverà, appunto, da San Giovanni in Laterano in piazza Santa Maria Maggiore. Una processione che torna dopo qualche anno di stop, dal 2018, per cui invitiamo tutte le amiche e gli amici che ci seguono da Roma e provincia a partecipare, anche se possibile, attivamente, perché sullo sfondo, eccellenza, vedo che il cielo è sereno a Roma, per cui non dovrebbero esserci sorprese. Toni, sommessamente, volevo solo aggiungere una preghiera se ci saluta Papa Francesco, visto che lei lo incontra spesso. Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo vedremo il 2 e poi il giorno 11 Papa Francesco incontrerà tanti sacerdoti della Diocesi perché quest'anno ha vissuto con quello di giorno 11 ben nove incontri con il clero romano. Li ha incontrati nei cinque settori in cui è divisa la Diocesi, settori geografici, nord, sud, est, ovest e centro, poi li ha incontrati tutti insieme l'11 gennaio in Basilica, poi ha incontrato i sacerdoti anziani da 40 anni di ordinazione in su a San Giuseppe al Trionfale, l'altro giorno ha incontrato il giovane clero dalle suore, dalle piedi scepole sulla via Portuense e giorno 11 incontra la fascia mediana che è quella che va dagli 11 anni fino ai 39 presso l'aula magna della Pontificia Università Salesiana. Quindi una grande attenzione da parte del Santo Padre ai sacerdoti, conoscendo la complessità e le difficoltà del loro ministero. Ve lo saluto molto volentieri e vi ringrazio per il servizio che fate perché io sono molto legato alla vostra emittente per un motivo, per me affettivo nel senso che ho avuto papà che adesso è in cielo che per molti anni è stato ammalato e ho avuto la grazia di assisterlo in diversi periodi della mia vita al mattino presto e lui mi diceva sediti qui accanto a me accenditele Padre Pio e quindi per me è scolpita la vostra emittente è scolpita in un angolo prezioso del mio cuore È molto bello questo dettaglio Suo papà come si chiamava? Papà si chiamava Antonio una persona semplicissima era un contadino per molti anni era stato lontano da Dio forse perché arrabbiato con la vita poi ha avuto un momento di conversione molto bello forse legato un po' anche alla mia vocazione da quel momento è rimasto vicinissimo al Signore e alla Vergine Santissima era molto legato alla Madonna e quando ha scoperto la vostra emittente credo sin dalle prime battute riusciva a seguirla soprattutto al mattino perché poi durante il giorno non riusciva a stare bene ma al mattino presto le lodi, la messe e tutto il resto per lui era un appuntamento fisso e quindi qualche volta mi capitava di assisterlo di vegliare durante la notte quindi magari non dormivo bene e lui mi addormentavo le prime ore del mattino e lui con molta dolcezza mi svegliava e mi diceva accendi Tele Padre Pio perché è orario della messe e delle lodi e sono delle cose che custodisco come delle cose preziosissime perdonatemi questo ricordo personale per noi è altrettanto prezioso assolutamente è un regalo la televisione è anche questa è un regalo che ci ha fatto è un regalo che ci ha fatto stamattina perché ci ha condiviso questo ricordo che è una bella e preziosa testimonianza eccellenza che dire l'aspettiamo a San Giovanni Rotondo per cui siamo ancora molto volentieri siamo ancora più felici molto volentieri siamo ancora più grazie una buona giornata buona giornata buona giornata e buon lavoro a voi siamo felicissimi di aver raccolto questo ricordo questa testimonianza e quindi ecco questo collegamento si è impreziosito ulteriormente buon Corpus Domini allora eccellenza e arrivederci a presto allora ecco